con mister sant'alfonsi al termine della rifinitura mister finita la pausa si torna in campo che samba dobbiamo aspettarci finalmente si torna in campo che è la cosa che ci piace fare più di tutti e speriamo di trovare la samba che ha finito da pezzano è stata una bellissima samba che ha portato a casa tre punti meritatamente e ha fatto anche una grande partita con lo spirito con la voglia giusta lottando su ogni pallone questo è quello che vogliono i tifosi e quello che dobbiamo quello che dobbiamo fare domani arriva un montegiorgio una squadra che si chiude bene è brava di partire qualche problema potrebbe crearcelo sì 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 poi c'abbiamo c'è l'albanese che ci mette sempre in difficoltà ogni volta che gioca contro la samba dobbiamo essere bravi pensare a noi quello che dobbiamo fare giochiamo in casa levarci film che abbiamo sulla testa che riviera per noi siamo forti stiamo facendo bene dobbiamo continuare ripartire l'anno col pieno giusto e fare un grandissimo girone di ritorno appunto un girone di andata che si è concluso con due cammini opposti tra casa e trasferta come si ti spiega insomma questa differenza di risultati tra casa e fuori ci spiega ci siamo spiegati lavorando lavorando bene in settimana e ripeto il riviera delle palme per noi deve essere un punto di forza e non deve essere una cosa che ci fa paura quindi domani dobbiamo essere preparati per fare una grande partita non pensare se è in casa in trasferta giocare come stiamo facendo le ultime partite con le stesse la stessa attenzione e sono sicuro che domani porteremo a casa la vittoria dall'infermeria ci sono aggiornamenti? l'infermeria ripartiamo quest'anno con i soliti un po' di problematiche con Chinellato che sta recuperando Migliorini all'influenza Ruben ha preso un colpo ieri vediamo un attimino Alboni si sta riatretizzando quindi cerchiamo di portarlo in condizione prima possibile Maudi ancora non ha recuperato Lulli domani viene in panchina per fargli assaporare anche lo spogliatoio perché è un giocatore importante per noi e poi vediamo con quelli che abbiamo di dare il massimo e di fare quello che sappiamo